Entra in vigore oggi la legge anti-LGBT in Ungheria, il testo firmato dal presidente ungherese 15 giorni fa scatenato un forte scontro in Europa. Il governo di Orbán si è schierato per la norma che ha definito in difesa dei minori e ha annunciato di volerla mantenere. Giuseppe Eleni ha invece chiesto il ritiro, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ieri è tornata a parlare di legge vergognosa che non serve alla protezione dei bambini ma utilizza l'argomento come pretesto per discriminare l'orientamento delle persone.